Sì, infatti ora sono con Nova di nuovo Uh, meno male Madonna, quella... veramente Quella parte mi ha... mi ha un po' scombussolato Runa della bufera, questa è la magia superiore 3-5 3-5, quindi buonissima questa E... va bene Allora, prima però di andare lì Io volevo controllare un secondo Tu, attacco dell'arma... no, livello dell'arma 4 Quindi, no, aspettate un secondo Ehm... Ah no, aspetta un secondo Andiamo a potenziare l'arma della mia waifu perché Voglio vedere se mi si potenzia man mano che la uso Anche se poi, minchia, effettivamente se ora posso utilizzare 6 in-e nel... Nel mio party userò lui, ovviamente Anzi no, questo posso scendere di qua Certo, posso controllare un secondo se... Posso controllare se c'è una sfida di cucina ma... Minchia, c'è... oddio, è lui! È quello col cappello, è Trey! Aspetta, allora, prima salviamo le ricette Ma le ricette gliele dà tutte in una volta, vero? Sì, ok, funziona allo stesso modo Aspetta un secondo, allora Salviamo in un altro blocco E qui... sfidone di cucina Contro Trey Eccomo Kurtz, come promesso Trey Non sei l'unico a cercare risposte Per avere le mie, devo vedere la tua cucina in prima persona Da quando mi hai portato via moglie e insegnante Ho affilato i coltelli per essere pronto a metterti nella tua tomba culinaria Puoi farcela, Kurtz! E allora stai sprecando Tem Stai per avere un assaggio del premio che ho ottenuto quel giorno Aspetta, che vorresti dire? Che la battaglia è di inizio Ora, secondo me, lui sarà la battaglia scriptata Dove prende il massimo dei punteggi Vediamo... Vediamo se quello che penso è corretto Signore e signore, la testa è terminata È arrivato il momento di iniziare il duello di cucina di oggi Permettetevi di presentare la giuria Cosa piace a chi ha la passione per i soggetti termali? Immagino che nulla possa abbattere il latte alla fragola Ok Ce l'ho una ricetta con latte, in realtà Una fantastica Ok, tosto zuccherati Lui invece... Eh, prende una grossa bistecca e falla a pezzi e spiatterla sulla griglia Ok E lei invece... I mesiam Eh, vabbè, i mesiam non so cosa siano Quindi non ce li ho come ricetta Il misterioso chef con tre occhi Tre E tensing, praticamente E poi il nostro Kurtz Allora, tre portate Cominciamo Omelette Che va benissimo Ecco, poi vedi la bistecca Eh, mi sa... Eh, ora però vedi Eh, mi sa che la bistecca... Mi sa che questo qua è il piatto preferito Di Yusuke La bistecca salisburri Unisci tritato, cipolla e pangrattate Ne qual misura Proprio degli hamburger e grigliali Rendendoli deliziosi Perché quello dice Vuole una bistecca E la vuole messa lì Sul... Quindi Credo che siano quelli Zuppa aspra e piccante Preparata sobollendo verdure in brodo Di gamberetti, eh no Una pentola viene riempita di carne Riso e verdure Poi viene girata E rivela il piatto a strati Vuol dire al contrario Salsicce bollite Patate sottacete e altri ingredienti Su un piatto ricoperto di formaggio fuso Vedi, questa è bistecca Però io quando l'ho portata Questa bistecca A Yusuke Non gli è piaciuta la prima volta Ah, vedi, l'ipoc Questo ce l'abbiamo ora come piatto Questo era un piatto preferito di qualcuno Non mi ricordo di chi però Arrosto di manzo Carne di manzo scottato E grigliata per renderla Perfettamente tenere e succosa Oddio Però potrebbe essere anche questa La bistecca che vuole Yusuke In realtà vorrei No, va bene Facciamo questa Vediamo se è questa E poi qui mettiamo i I toast zuccherati Che sono quelli di Hildi Se non è neanche questa La carne preferita di Yusuke È l'altra Per forza Non c'è soluzione E come dicevo prima Le sfide di cucina in realtà Non mi piace tantissimo Come le hanno gestite Perché praticamente qui è O sei Piatto preferito O fa cagare Cioè non c'è una via di mezzo Cioè sono pochi piatti Che riescono A mettere d'accordo Quasi tutti Almeno con un punteggino Tipo l'omlet Che l'omlet Praticamente ogni volta che la fai Bene o male L'accettano tutti Invece qui Molti sono O è buono O fa cagare Cioè proprio Non c'è una mezza misura Quindi boh vediamo Però se è come penso Questa è la battaglia scriptata Quindi lui ora mi fa tipo Tutti i punteggi Tutti i cinque Prende Prende tutti i punteggi massimi Perché poi lo risfiderò E allora lì Panino al pomodoro Primo antipasto Ok vediamo Vediamo se è come penso E infatti E ok Immaginavo E' talmente buono Che mi ci immergerei dentro Ecco qua Tutti i cinque E lo sapevo Palese Eh? I giudici ignorano l'altro piatto E divorano quello di tre Come se fossero posseduti Ecco Ah proprio Neanche ho bisogno Ah Ah perfetto Neanche proprio ho dovuto cucinare Non riesco a smettere di mangiarlo Anche tu Noah Ma che diavolo sta succedendo Ha fatto una specie di incantesimo su suo cibo Che stregoneria è mai questa? E' delizioso Ecco vedi Ti ho appena servito delle ricette arcane Tratte dalla pergamena della terra E' fisicamente impossibile negare il loro sapore E' fisicamente impossibile opporsi al loro sapore Ricette arcane Per questo ho ucciso il mio insegnante Purtroppo possiedo solo metà degli arcani Senza la pergamena del cielo Ah Mi ho detto troppo Inoltre Se ho setacciato il mondo Alla ricerca dell'altra pergamena Non ho trovato nulla Che speranza hai tu? La pergamena del cielo Abbandona questa infruttuosa ricerca di vendetta Kurz Unisciti al sindacato del drago scuro Per il tuo bene Mai Ti sconfiggerò Un giorno Ricorda le mie parole Che uomo testardo Ricorda le mie di parole Kurz Prima o poi soccomberai a me Vabbè Ero abbastanza sicuro che Sembra che dovrò trovare questa pergamena del cielo E mettere le mani a mia volta Su alcune ricette arcane Quindi alla ricerca delle ricette arcane Mi stai dicendo? Va bene Possiamo salvare sempre qui Tanto Abbiamo scoperto che quella era una battaglia scriptata Quindi Va bene Allora Potenzio l'arma della mia waifu adesso Perché vorrei utilizzarla Per vedere Anche se in realtà adesso Se in dovrebbe Se in dovrebbe ritornare Al castello Quindi in teoria Adesso se in dovrebbe ritornare Al castello In teoria Quindi Adesso potrei utilizzarlo Come personaggio fisso Nel party forse E tra l'altro devo vedere Dove trovare i martelli Ora devo iniziare anche a cercare Piano piano I martelli Da portare al fabbro Per aumentare La sua potenza Perché sicuramente funzionerà così No? Che io devo trovare i martelli in giro Portarli al fabbro E permettergli di aumentare la potenza Della mia arma Allora saliamo Andiamo a vedere il rapporto Andiamo a vedere il rapporto di Andiamo a vedere il rapporto di Seine Anche se in realtà Ci sono dei personaggi nuovi Che abbiamo visto E che dovrei Capire come poterli reclutare Adesso Con Baba Però Lo facciamo tra poco Lo facciamo dopo Eccolo E' tornato Ed è questo che abbiamo appreso Per ora Nessuna forza dell'impero Si è opposta pubblicamente Al Dukaltric Tuttavia Quando si spargerà voce Delle sue attività Sicuramente qualcuno Si opporrà Sapevo che il sorrisetto viscido Di quel mostro Nascondeva dei terribili segreti Ma trasformare in armi Le lenti È una cosa orribile E adesso sappiamo Che l'acquisto Nosfariano Non serviva Solo come punto D'appoggio Per l'invasione Mi dispiace Chiederlo Yaelu Ma la tua famiglia? I miei genitori Non ce l'hanno fatta Maledetto cane Oddio Detto da Gar però No lo so Sta battuta Mi sembra un po' infelice Sacrificare i viti umani Per sbloccare il potere Della lente runica Sembra un po' La storia della runa bestia No? I Shugoden 2 Dove praticamente C'è Luca Blight Che sacrifica praticamente Tutto il villare Tutti i popolari Di Muse Per risvegliare La runa bestia Praticamente È molto simile Il concetto È assolutamente Imperdonabile Oddio Yaelu Guarda Oddio Suo fratello è tornato Ah quindi ora recluto Suo fratello Io e Pollo Volevamo aiutare Quel ragazzo Quindi ci siamo rimboccate Le maniche E voilà Ha il braccio meccanico Che te ne pare Figo eh Nessuno sarà più forte Del male adesso Eccolo qua Reclutato anche lui Armato E pronto Madonna mia Che bracione Che gli hanno fatto Non lo faranno Grazie Da quello che sento Non mi sembra Che la vostra vittoria militare Abbiamo indebolito Le ambizioni di Aldrich Presto farò la sua mossa Non c'è ombra di dubbio Magari un'altra mossa Sulla Lega Dopo aver consolidato Il potere con l'impero No Vuole qualcosa di più Soprattutto Visto e considerato Ciò che ha fatto All'agente di Yaelo E allora Qual è il piano Continuerò a raccogliere informazioni E nel frattempo Accresciamo le nostre forze L'unica cosa Che possiamo controllare Ok Quindi Qui mi sta Dicendo che Possiamo Adesso Mi sa che Possiamo andare in giro A reclutare qualcun altro Ci saranno sbloccati Altri personaggi Nel mondo Quindi Ottima questa cosa Sembra che questa storia Peggerirà Ancora prima di migliorare Ehi Che succede? Parla con il tuo capo Dopotutto Sono una fontana Di consigli saggi Aspetta No Ho già capito Devi solo riempirti la pancia E farti una bella dormita Già Proprio così Potrebbe non essere Un brutto consiglio Prenditi un giorno Per te stesso Noa Torna al tuo alloggio E riposa Perché domani Dovrei tornare Al tuo duro lavoro Oddio Vedere che ora Entro in camera E c'è Quindi Quindi vediamo se Quali indizi hai Non ne ho indizi Ecco Qua forse c'è Ma non si può negare Se c'è un testimone Ha detto ovest Perciò non significa che Fratello Non darò la caccia A un drago Assolutamente no Possono chiedere a Garo Mio O a chiunque Non venga trasformato In spiedino rosto In tre secondi Beh Avranno almeno bisogno Di una scorta Ecco Ecco vedi Ehi Cosa c'è Che succede Oh comandante Non ci crederai Ma è stato avvistato Un drago Sì E sembra che si comporti In modo insolito Un cacciatore L'ha trovato nel bosco E sebbene non l'abbia attaccato Non era nemmeno amichevole Quando ha cercato di avvicinarsi Ok Sarà meglio occuparci Ne sai dove si trova Sì E come si chiama La strada che usano i guardiani La vecchia strada Il gomito Odio la geografia Comunque È in quella direzione Signore Eldrod Ho capito Grazie per l'aiuto Signore Il cacciatore che l'ha avvistato Ha parlato di un bagliore Simile a una lente grezza Forse è il caso Di viaggiare con un esperto In materia Lente grezza A chi potremmo chiedere Qualche informazione È ovviamente Il maestro di lune Vi ho sentito parlare Un drago impregnato Di lenti grezze Sembra moolto interessante Dispiace portarmi con te Durante l'indagine Va bene Ti metto nella riserva E via Aspetta Ma già sei inserito Nella riserva No No Ok Ok Quindi vedi C'è il drago Che Però aspetta Io verso ovest Non ci posso andare ancora Miglioriamo Ecco qua Madonna mia Ecco Ora Ci siamo Ah Guarda come sta diventando Bello Io adesso Guarda che figata Guarda adesso Com'è bello il castello Come sta diventando Come sta diventando figo Ti metto Poi va a sberle Fortissimo Ti faccio esplodere La faccia Ti faccio esplodere Dove cazzo Ah era qua Lui si trova qua No Sì Eccolo Ho l'officina Vuoi venire? Eh l'arte è un'esplosione Lo senti anche tu no? L'arte è libertà Una volta che Ok L'arte è un'esplosione Sì è proprio così Allora lo senti anche tu Sento già che diventeremo Grandi amici Ecco bravo Ora vieni nel mio castello Sì No Uno studio nella mia città Uno studio dici? Sì lo vedo bene Ok vieni Vai Vieni vieni Mi servono No Minerali di ferro E legno mistico No E dell'osso di bestia selvaggia No Non me lo dire No Non me lo dire Scusa Quanti te ne servono Ah uno solo te ne serve Di tutti e tre Ah ok Vabbè easy allora Vaffanculo Ecco qua Tieni Ok Ti unirai a noi Sì certo Finalmente L'arte è esplosiva Grazie Ce l'abbiamo fatto E lui è preso Dove dobbiamo andare adesso? Me lo sono scordato Allora ok Facciamo una cosa Visto che comunque Si è fatta una certa Ritorniamo al castello Adesso ci possiamo tornare al castello Ecco qua Prenderò il contenuto Della borsa dei materiali Ma che cazzo devi prendere? Stai fermo Stai fermo Ok Triggeriamo la parte della storia Così poi gli altri reclutamenti Li faccio Li faccio In separata sede Dormi un po' Ok Eh ma fammi compagnia però No vero? Ah vuoi vedere che ora Mentre dormo Mi sblocca la campagna Di Marisa Oh Lian Ok C'è sicuramente qualcosa che non va Quindi Scooter Rosp Lo pensa a sua sorella Credo che mi manchi Solo un po' di autostiva Perrielle mi ha convinto A diventare comandante Ma non sono sicuro Di essere la persona giusta Per farlo Oh no Già Sua signoria Ti ha proprio messo in mezzo Messo in mezzo eh Lo pensi anche tu Senti Voglio farti una domanda Cosa ne pensi di quello che Sain e Yaelu ci hanno raccontato oggi Di Sain Mi hanno infastidito e fatto infuriare E che mi dici di quello che è successo a casa tua Non permetterò mai più che accada qualcosa del genere ovviamente Ok Quindi non basta Sei un uomo con reazioni vere Oneste ed emotive Ed è per questo che sua signoria ti ha scelto come pezzo grosso E per quello che vale io Oddio Si confessa Beh so che il fatto So So che il fatto So che il fatto che tu stia facendo il possibile aiuterà anche me Dici davvero? Certo che sì Minchia E' arrivato anche lui Nessuno vuole che cambi Devi solo continuare ad essere te stesso Chissà se c'è anche qua la scelta di poter abbandonare tutto E mandare tutto a puttane Perché c'era il Shui Goten 2 Maestro Sein? Oh Yaelu Mi dispiace per non aver salvato i tuoi genitori Non dispiacerti Eravamo degli estranei per te Non ci dovevi niente Io Beh Volevo sapere Perché ci hai aiutati? Anche se comprendo perfettamente se hai un'opinione diversa Credo che ci sia ancora del buono nell'impero Quindi continuo a lottare per la mia terra Anche se dovrò tradirla Quindi Beh Penso che avevo bisogno di dimostrare da aver ragione Ai tuoi occhi Sarà sembrata una cosa molto egoista No Le due ragioni non cambiano le azioni Né quello che hai fatto per noi Anche questa sei innamorata di Sein Ora Hildi impazzisce e la uccide No Vedi Quanto tempo passerà prima che il Duga faccia la sua mossa secondo te? Non molto Purtroppo le informazioni che abbiamo ricevuto dipingono un quadro spaventoso La lotta sarà difficile Tu cosa faresti? Fuggirei fino ai confini del mondo e scaverei una fossa molto profonda Perché temo proprio di dover andare così lontano per sfuggire alla mossa del Duga E allora cosa ti sta affermando? Non ho una pala Quindi ho deciso di affidarmi al piano B Sconfiggerlo Di certo a te l'autostima non manca Ho avuto l'impressione che tu avessi deciso la stessa cosa Certo Dopotutto ho una promessa da mantenere Proprio È identico a Shu Merridge Anche nel modo in cui parla Ah vedi Zona non identificata E questa mi sa che la sbloccheremo adesso per trama Vedi è la zona del grande bosco Quella là a ovest E infatti c'è Marisa Penso che il castello sia proprio più avanti Ah stanno venendo da me? Allora facciamogli visita Ah ecco vedi stanno venendo da me Perfetto 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 Ed è qua Forse si incontrano quando loro arrivano nella sala Può essere Ah ecco Ok C'è qualcosa che non va? Puoi dirlo forte Vieni alla sala grande Ecco vedi Ok Dovevo attivare il trigger Ok ci siamo Voglio far attivare questo trigger In modo tale che così poi ho la libertà di esplorazione E posso fare tutti i reclutamenti Anche magari offline Anche off camera Eccola Ehi amico Che bello vederti tutto ad un pezzo Anche per me Ma fai che ci fate qui? L'impero si sta muovendo di nuovo A quanto pare Non puntano più su Euciris Adesso il loro obiettivo è non Ristar Che è a ovest Non Ristar ovviamente È una delle tre potenze maggiori della Lega delle Nazioni Insieme a Euciris e Kenan Il Duca non sta neanche cercando di nascondere i suoi piani per la Lega Quindi la sua prossima mossa non sarà così discreta Ma non Ristar è solo una parte del problema Ci è arrivata notizia di un'altra minaccia Ma non ne conosciamo ancora la portata Ah ecco vediamo forse la runa Oh e anche l'impero ha iniziato a cercare le rovine runiche con nuova ferocia Beh casino Comunque secondo me la nostra priorità assolutamente è andare a Norristar Concordo Ho ricevuto notizie contrastanti dalle mie fondi Quindi dobbiamo capire in prima persona cosa sta succedendo Io torno a Euciris per le negoziazioni Qualcuno deve essere lì nel caso in cui Euciris Dovesse avere di nuovo dei ripensamenti Potreste andare assieme Euciris e lungo la via In realtà i guardiani conoscono un percorso migliore Ecco qua C'è una strada che attraversa il grande bosco che porta a Norristar più velocemente In più restando nella foresta è più facile fuggire da eventuali inseguitori o intrappolarli Nessuno conosce quel posto meglio di me E allora fai strada tu Con piacere Oh finalmente è reclutata anche Marisa Oh quindi ce li ho tutti adesso i miei guardiani In teoria Non è nulla di cui preoccuparti amico Oh anche Garu entra nel gruppo Avventuriero del vento E chi altro verrà con te? Minchia loro sono obbligatori Vabbè tu no a te Minchia dielo 38 Siete migliorati un botto Tu no Tu vaffanculo Ovviamente porto segne con me Easy Tu puoi attaccare da dietro giusto? Sì Perfetto Quindi ci portiamo anche Reina Poi ci portiamo ovviamente Miss Ascella La nostra E anche la nostra lei La nostra guardiana dei demoni Come aiuto per Riel non possiamo portarla stavolta Quindi portiamo lei Anzi lui Anzi lui Rodi Che aumenta moltissimo la velocità di azione Oppure Al posto della velocità di azione Posso portare quella che mi fa muovere più velocemente Però no in realtà no 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 Va bene Va bene lei Ok ci siamo Andiamo Sì è tutto pronto Per raggiungere la strada dei guardiani Ci dirigeremo verso il ponte a sud E dopo aver l'attraversato Torneremo a nord Lì c'è un'entrata segreta per la foresta Ok Devo sbloccare questa Eh ci vediamo a nord Ristar Ok Devo sbloccare questa parte Questa parte della foresta prima Speriamo che basti Ecco qui c'è Marisa Che ora mi parla del reclutamento Dell'altro personaggio Ehi Nova Tutto a posto? Cosa intendi dire? Non so Sembi distratta Sì forse Ora ti spiego Hanno avvistato un grifone Ecco prima qui poi lì Sai come funzionano le voci Dunque vuoi che ti aiuta a dare la caccia al grifone? No Ma da ciò che raccontano le persone Non posso che pensare Se fosse davvero lui Eh vedi? Adesso siamo Aggiornati Quindi immagino che sia nel canguro Ecco Ah no ma Oddio è lei veramente? E lei veramente? CJ Ehi ho saputo che i miei amici Isha e Garu sono passati da qui Potresti indicarmi dove sono andati? Sto cercando Garu e Isha Una bestia con un carattere difficile Una ragazza amante dei soldi So che sono qui Dunque sbrigati a dirmi dove sono Ma quindi combatte lei? Oddio Ehi tu Sì tu Eccoli Ah devo averli tutti e due in parti? Ti chiedevo chi fosse a fare tutto questo baccano Perché sei venuta fin qui a disturbarci? Esilarante Non sono io a essere scomparsa nel nulla Comunque mi fa piacere rivedervi In realtà sei tu che sei scomparsa CJ Ci siamo divise per cercare degli indizi E dopodiché non ti sei fatta più sentire Ah quindi anche Isha era del prequel Ecco perché sono qui Indizio per cosa? La rovina runica? Il sindaco? Qualcosa del genere? Più o meno Aspetta Io sono Non importa Una lente grezza Ho trovato una lente grezza O meglio Le rovine runiche Dove potrebbe esserci una lente grezza? Oddio Di nuovo a caccia di qualcosa di gigantesco eh? Cosa? No Ho già trovato il mio tesoro Questa lente grezza è il biglietto per qualcosa di più grande Un potere che sto cercando da tanto Comunque le rovine sono nascoste nelle terre di una famiglia nobile di nome Groom Ho subito idacato e sono sicura al 100% che lì forse potrebbe esserci una lente grezza Intendi le rovine che si estendono fino al bosco a nord di Elty's Weiss? Come fai a saperlo? Ho appena spifferato il piano a un razziatore rivale? Eh no Perché loro già ci sono stati E' solo che abbiamo trovato una lente grezza proprio in quelle rovine runiche più di sei mesi fa Come? No Per entrare lì dentro ti serve una runa speciale Pidati Lo so perché ho dovuto cercarle in tutto il territorio In realtà Aspetta A che mi ci fai pensare C'era un altro C'era un altro posto in cui non potevamo entrare Ah ecco Nell'altro ingresso Sì bingo L'unica che può entrare in quelle rovine sono io Ah ecco Sei fortunato Stavo proprio per organizzare una spedizione E tu ovviamente sei incluso Saremo tu io Garu e Isha Potevi chiederlo almeno Allora inizio ad andare per sorvegliere la zona Ah ok Quindi lei si troverà lì A più tardi Mi chiamo Nova Assicurati che Isha e Garu vengono con te Vabbè lo posso fare ora praticamente Ok lo so dove si trovano le rovine Ah pensavo di reclutarla subito Mi sa che questa è la sua side quest Andiamo a dare un'occhiata? Direi di sì E tu ci mai vengo anch'io Non dimenticarti di noi Esatto Perché devo averli nel party Ok Bene 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 Benissimo anzi Benissimo Queste sono tutte cose che posso fare Tranquillamente offline Però prima Però prima Però prima Oddio ma Scusa quella zona Ah aspetta Aspetta Vuoi vedere che è quella zona di qua Che io non riuscivo a capire qual'era? Ed è il passaggio segreto? No non ci credo I reclutamenti che posso fare adesso Ok E' questo il posto? Sì Eldrod E' giusto più avanti che ci porterà Yarnahan Il mio villaggio Norristar è a pochi passi da lì Eldrod? Già Già Il guardiano è un giro di proteggere qualsiasi cosa si trovi sotto questi alberi Soprattutto le rovine runie Si dice che Eldrod in realtà sia parte di quelle rovine Tuttavia adesso la usiamo soprattutto per controllare e difendere i luoghi più importanti della foresta E' un modo pratico per spostarsi Questa cosa E' vero che la potrei registrare comunque e metterla a parte Perché comunque potrei metterla a parte Però Io la storia l'ho fatta tutta in live Vabbè nel caso salvo a parte E poi rifaccio La rifaccio sta parte Vi posso dire Purtroppo Purtroppo si Mi conviene salvare E' amen Però intanto ora Eldrod in teoria l'ho sbloccata come teleport Giusto? Sì Ok sì Ok sbloccata Va bene Va bene Va bene Vediamo se riesco a fare qualche reclutamento Prima di triggerare La parte diciamo Quella lì E vediamo che cosa succede Ragazzi Detto ciò Io vi do la buonanotte Perché si è fatta una certa Domani non è festa ovviamente Quindi Bisogna Procedere con la vita di tutti i giorni E Boh Continuiamo domani Quindi Ci becchiamo domani Adios Grazie a tutti Grazie a tutti.